Eh sì, ragazzi, buon lunedì, buon lunedì, e io voglio sapere come vi siete svegliati questa mattina guardando la classifica di Serie A e notando che siamo al secondo posto. Soltanto una squadra davanti a noi, il Napoli, il Napoli di Luciano Spalletti, che è molto lontano, ancora molto lontano, perché stanno parlando di 7 punti e 7 punti sono tantissimi. E' anche vero che c'è un però, ci sono ancora due scontri diretti da giocare, e uno lo giochiamo proprio questa settimana, lo giochiamo venerdì, quindi lo giochiamo tra sei giorni. Quindi questa sarà una settimana lunga, anzi lunghissima, perché arrivare a pensare di poter accorciare così tanto nei confronti del Napoli è un regalo che va colto al volo. E proprio qui voglio entrare a gamba tesa e dire subito che non mi accontento di un pareggio, anzi, più che non mi accontento, non è vero. Non firmo per un pareggio, che sono due cose diverse, perché firmo per vincere, assolutamente. È ovvio che immaginarsi una Juve che vince al Maradona, secondo me in questo momento, è abbastanza complicato. Nonostante il periodo di forma incredibile della Juventus, e per forma intendo il filotto di partite in cui la Juventus ha vinto, quindi otto partite di fila, otto partite di fila senza mai subire gol, credo che comunque la partita che andremo ad affrontare, la partita che andremo a giocare al Maradona sarà molto, molto tosta. E so per certo che Allegri si accontenterebbe anche di un pareggio, perché tante volte gliel'abbiamo sentito dire il pareggio è meglio di una sconfitta, il pareggio comunque alla fine dell'anno va all'interno di un calderone, che sono tutti i punti guadagnati. Dall'altra parte io dico che questa Juventus avrebbe potuto accontentarsi di un pareggio, ma soltanto in caso di partenza anche effettiva in campionato di livello. Perché ci sono stati degli stop, dei brutti stop. Mi viene in mente quello di Genova, mi viene in mente quello di Firenze, mi viene in mente purtroppo anche quello in casa con la Salernitana, nonostante quello che è successo nel finale. Ma al primo tempo di quella partita la Juventus non la gioca. Ha staccato completamente il cervello. Siamo distanti anni luce da quel primo tempo a quello che abbiamo visto nelle ultime partite. E ovviamente non si può non citare la partita in casa del Monza. Anche quella in casa del Milan, che è stata l'ultima partita prima del moto d'orgoglio che parte col derby e che proietta la Juventus in questo momento in maniera quasi inaspettata, quasi in cima, quasi in vetta alla classifica di Serie A. Così vicini alla cima della classifica, ma anche così lontani. Perché è vero che ci sono due scontri diretti, ma quegli scontri diretti vanno vinti. Siamo davanti al Milan, che ieri sera ha pareggiato in extremis. Stava vincendo per 2-0. Quelle partite non sono finite, le partite non sono mai chiuse. E Tammy Abram all'ultimo secondo va a punire la squadra allenata da Stefano Pioli. Ero insieme a tanti amici milanisti e riuscire a guardare la partita. E' ovvio che quando c'erano queste cose il gioco da tifoso è sempre molto divertente. E' ovvio che il pareggio della Roma mi abbia fatto discretamente piacere. Perché ci regala appunto un secondo posto in classifica. Un secondo posto del quale però non sono pienamente soddisfatto. Perché mi rendo veramente conto che le potenzialità per fare bene e molto bene c'erano già dall'inizio di questa stagione. Non prendiamoci in giro. Non è che magicamente siano diventati tutti forti o che Allegri magicamente sia tornato un allenatore che vuole vincere. No. Secondo me si è iniziata la stagione con un po' troppa leggerezza. Con quasi l'idea che vabbè se la Juventus è andata male un anno ma secondo te va male anche il secondo. Sì, succede. Succede perché era già andata male anche l'anno prima. Con Pirlo io non mi ritengo soddisfatto. Da tifoso di Juventus non posso ritenermi soddisfatto di una qualificazione in Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa. Perché poi in Champions League abbiamo fatto delle brutte figure. Perché siamo usciti già agli ottavi di finale. Figuriamoci l'anno dopo che non vinciamo nemmeno le due coppe minori e addirittura usciamo ancora una volta agli ottavi. Figuratevi adesso che usciamo i gironi di Champions. Questa stagione è molto strana. È molto particolare. Soprattutto perché se io vado a vedere la classifica e ve la voglio mettere a schermo in questo momento noto come sì, il Napoli è primo. Sì, il Milan è pari a noi a livello di punti. Sì, l'Inter è dietro a noi a livello di punti. Ma se io guardo il discorso legato ai gol fatti e ai gol subiti noi siamo una squadra molto particolare. Perché siamo lì in alto, ok? A giocarcela alla pari col Milan che ha segnato sette gol in più di noi in 17 gare. Non sono pochi, eh? Assolutamente no. Il Napoli ancora di più perché ne ha segnati tredici in più di noi. Ne ha segnati di più anche l'Inter. Ma la differenza sta tutta nella fase difensiva, ragazzi. Noi abbiamo subito sette gol. Perché queste otto partite su diciassette otto partite su diciassette in cui non abbiamo subito gol vuol dire che nelle altre nove ne avevano subiti sette. Quindi qualcosa è cambiato. L'approccio, il metodo. In campo non mi pare che ci sia stata un'evoluzione del credo. C'è stata un'evoluzione del modulo. Allora, Juventus approccia la partita quasi allo stesso modo. Non è che abbiamo deciso di attaccarli più di difenderli più anche all'inizio. Ci preoccupavamo tanto di non prendere gol. Io credo che sia proprio tutta una differenza nata dal fatto che ora i giocatori sono più responsabilizzati ci credono di più e anche l'allenatore mi sembra avere iniziato a crederci di più. Perché vi dico questo? Perché la sfuriata di Allegri che fa l'altro giorno a Sule nella finale della partita con l'Udinese è una cosa che all'Allegri 1 ho visto fare mille, duemila volte. All'Allegri bis l'ho visto fare poche volte. Ho visto sempre più spesso Allegri rassegnato all'evidenza. mi viene in mente è una delle prime partite dell'Allegri bis e quindi sicuramente fa poco testo però mi viene in mente mi viene in mente quella partita con l'Empoli la prima in casa io c'ero con chi lì in Allegri che si parlano e si dicono vabbè questi siamo con Allegri che per tutto l'anno ha ripetuto sì vabbè però la squadra è questa qui anche se sia la Juventus la squadra è questa qui bla 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 anche l'Allegri di inizio anno non mi piaceva che continuava a parlare delle essenze e vabbè ma mancano quelli come per dire io con questi cosa ci devo fare appena si è iniziato a smettere di parlare di queste cose appena si è iniziato veramente a concentrarsi non solo Allegri ma proprio tutto l'ambiente tutto l'ambiente si è iniziato a concentrarsi sul fatto che bisognava pedalare e che quello di prima non era accettabile eccoci qua poi ci sono state le sconfitte perché comunque abbiamo perso l'Albenfica superiore a noi sono stati superiore a noi in Champions ci viene da fare abbiamo perso l'APSG lì abbiamo perso ma ce l'abbiamo giocata molto molto bene secondo me era una partita quasi ininfluente dico quasi perché comunque per loro la qualificazione come i primi era abbastanza importante no? e noi dovevamo cercare di qualificarci in Europa League quindi quasi ininfluente ma noi ce l'abbiamo giocata secondo me molto molto bene molto molto bene tra l'altro è un'altra partita dove Mbappé ha fatto il fenomeno vi giuro vedere Mbappé dal vivo ragazzi l'ho visto sia a Parigi che a Torino quest'anno qualcosa di incredibile non ti sembra vero di poter vedere qualcosa di questo tipo però noi qualcosa l'abbiamo cambiato e non l'abbiamo cambiato dal punto di vista tattico o almeno non solo perché la difesa 3 è sì un cambiamento ma non è l'unico e secondo me non è il più grande sono due cose diverse concludo questo ragionamento dicendo che vedo ancora tante persone che si lamentano del fatto che la Juve giochi male o si lamentano del fatto che Allegri sia ancora lì sapete benissimo io nel momento tragico avrei cambiato l'allenatore perché il mio ragionamento è sempre stato molto chiaro e lo è da quando è tornato Allegri tornato Allegri sono contento che sia tornato perché è un allenatore vincente che sa come si vince però deve vincere soprattutto perché torna la Juventus con un contratto molto oneroso quindi torna la Juventus da vincitore l'allenatore pagato e torna la Juventus perché non si vinceva più e quindi voglio vincere dopo un'annata in cui non si è vinto e che si è andati male avrei confermato Allegri perché l'anno scorso io ve lo dicevo chiaro confermerai Allegri un altro anno perché un secondo anno glielo voglio dare però allora bisogna vincere e non ho problemi ad ammetterlo in quei momenti in cui si prendeva Maccabi e Bonza Monza non Bonza Monza non avrei mai pensato che l'Aventus potesse resuscitare da un punto all'altro io mi ricordo anche le prime partite in cui iniziavamo a vincere di questo filotto di 8 e vi dicevo ragazzi non siamo guariti non possiamo dire che siamo guariti lo diremo eventualmente quando inizieremo a vincerne tot di fila adesso posso dirvi che siamo guariti non voglio ancora dirvelo perché la prova del 9 non l'abbiamo ancora affrontata abbiamo affrontato quella dell'8 l'Udinese abbiamo affrontato quella del 7 Cremonese abbiamo affrontato quella del 6 l'Aster addirittura quella del 5 Inter quella del 9 perché si dice prova del 9 perché devono essere 9 la prova del 9 Napoli a Napoli e la prova del 9 è perché perché probabilmente in questo momento l'Aventus potrebbe anche accontentarsi di un pareggio e dire vabbè sai cosa siamo lì ci sono altre 20 partite da giocare praticamente dopo questa vuoi dire che il Napoli non perderà dei punti per strada vuoi dire che non sarà lo scontro diretto in casa a essere determinante perché secondo me non è determinante questa partita con il Napoli non lo è non è assolutamente determinante non è decisiva cioè se vince il Napoli vince la Juve pareggio non cambia niente è ovvio che se vince la Juve inizio a crederci nel percorso scudetto nel discorso scudetto ma solo se inizia a vincere perché è la mia prova del 9 però sono convinto e ve lo dico già adesso che lunedì che la Juventus non giocherà per vincere questa partita poi se succede succede siamo contenti ma credo che la Juventus si accontenterà anche solo di un pari proprio perché il campionato è ancora lungo e si cercherà dato che il campionato la Serie A comunque il calcio non è una competizione estetica in cui vince il più bello il più bravo vince chi mette insieme i più punti Allegri poi ha sempre detto che vince la difesa migliore e sta portando avanti questa sua linea di pensiero e lo sta facendo egregiamente perché 7 gol subiti sono pochissimi cioè non è inutile girarci intorno stiamo viaggiando su delle medie una proiezione andrebbe a a catalogarci probabilmente intorno ai 20 gol che sono i gol che si prendevano durante i primi anni in cui vinceva gli scudetti con Conte che proprio difesa ermetica la BBC dei tempi d'oro e adesso non abbiamo la BBC dei tempi d'oro per intenderci stiamo viaggiando delle medie di clean sheet leggevo oggi soltanto il Cagliari del 66-67 nella storia della Serie A ha subito meno clean sheet 17 partite stiamo parlando di livelli di minuti di gol non subiti quasi come quando Allegri fece il record con con Buffon Barzagli Bonucci Chiellini nel 2016-17 stiamo viaggiando su dei livelli di difesa allucinanti poi c'è da dire perché c'è da dire tante volte ci scappa gli attaccanti gli avversari tante volte comunque ci tirano in porta del portiere che para tante volte magari c'è il palo il gol annullato la ribattuta non è tutt'oro quel che luccica non è che guardando otto vittorie consecutive con otto volte senza prendere gol abbiamo la difesa perfetta non è vero non è assolutamente vero è per quello che l'altro giorno vi dicevo per vincere a Napoli servirà una partita diversa da quella che abbiamo fatto con l'Udinese e diversa da quella che abbiamo fatto con la Cremonese e secondo me sono due partite diverse tra di loro molto simili perché comunque sono due partite brutte ma con la Cremonese hai rischiato tanto con l'Udinese hai rischiato poco con la Cremonese hai tirato da fuori perché in area non ci arrivavi con l'Udinese hai tirato in area e tante volte non hai fatto gol perché ti sei sbagliato sono due partite diverse nel complesso nell'analisi sono due partite che vengono una dopo l'altra Cremonese non mi è piaciuta Udinese mi è piaciuta già di più non dico che mi è piaciuta e basta perché sarebbe un po' eccessivo però se devo dare delle valutazioni siamo in crescita in queste due partite se vuoi vincere a Napoli serve una partita ancora di più oppure la partita che hai fatto con l'Udinese e ti accontenti di non vincere perché il campionato è ancora lungo il campionato non si decide alla diciottesima giornata però quell'autostima quella voglia quel cercare di mettere definitivamente da parte quello che è accaduto a inizio anno per me è un'occasione irripetibile è un'occasione irripetibile perché per la Juve ripeto secondo me diventa necessario vincere dall'alto del fatto che sei partito male e hai lasciato indietro tante robe e quindi il jolly del pareggio magari non te lo puoi più giocare scommettendo su quegli altri perché in questo momento è una specie di roulette russa stiamo parlando di questo l'altro giorno in live un ragazzo mi diceva che non devo dire che spero che vinca la Juventus lo scudetto perché se lo merita il Napoli perché gioca meglio di noi io credo che questi siano discorsi che non stanno né in cielo né in terra merita chi vince lo scudetto chi vince lo scudetto chi arriva davanti chi fa più punti chi in 38 giornate fa più punti vince più partite di quegli altri merita di vincere lo scudetto che abbia giocato bene che abbia giocato male che abbia giocato di mezzo che abbia giocato di scontinuo questa è un'altra cosa che va al di là di quello che va a collezionare la classifica è ovvio che non sono qui a dirvi se vinciamo lo scudetto allora significa che giochiamo meglio del Napoli perché non avrebbe senso ma non ha nemmeno senso fare questi discorsi sono consapevole però che le partite che stiamo collezionando in questo momento sono probabilmente di una qualità abbastanza bassa non elevata forse nemmeno all'altezza per poter competere con squadre come il Napoli quindi sono molto curioso di capire come l'approccerà Allegri sono molto curioso di capire se Allegri andrà a Napoli per provare a vincerla o se vorrà contenere per tornare a casa senza perdere che sono due cose diverse perché in Coppa questi discorsi non li puoi fare o meglio li puoi fare ma rischi tanto il campionato rischi di meno e secondo me conoscendo Allegri si andrà con la carta della prudenza ma sono anche curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti secondo voi la Juventus andrà a Napoli per vincere ma soprattutto la Juventus riuscirà a vincere a Napoli ma soprattutto la Juventus riuscirà a rientrare in una notte a scudetto ma soprattutto la Juventus vincere a scudetto basta perché stiamo iniziando ad andare un po' nel comico anche un abbraccio ragazzi ah non è vero concludo dicendovi che qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare il numero 10 e questa volta lo facciamo alla fine perché perché sto scrivendo un articolo e credo che nel pomeriggio sarà già online in cui parlo di Danilo capitano della Juventus con tanto di rinnovo molto 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 vicino e quindi voglio sapere un po' cosa ne pensate anche di questo ci vediamo sul numero 10 con il mio articolo da leggere